Ciao a tutti, oggi prepariamo una zuppa di pesce semplicissima e sfiziosa, zuppa piccante di calamari. Gli ingredienti sono pochissimi, tra cui ovviamente i calamari, il pomodoro, il prezzemolo, il vino bianco, l'olio, ma anche qualcosa di un po' più particolare, cioè un soffritto a base di aglio, peperoncino, zenzero e cipolla. Proprio lo zenzero darà a questo piatto un gusto aromatico particolare. Per accompagnare questo piatto, che ha dei toni vagamente orientali, ma vagamente, io preparo un riso fritto all'orientale, fatto con lo stesso trito a base di zenzero, aglio, cipolla e peperoncino e aggiungo anche i semi di cardamomo, che sono profumati in modo strepitoso. Se cliccate sul link che trovate nella descrizione, ci sarà anche la ricetta ovviamente del riso fritto. Dunque, innanzitutto bisogna semplicemente tritare molto bene tutti gli ingredienti, compreso il prezzemolo. Una volta che avrete il cipollotto fresco, l'aglio, lo zenzero, il peperoncino e il prezzemolo tritato, scaldiamo un po' di olio in una padella. Vi consiglio di utilizzare una padella profonda e a bordi alti, il classico wok giapponese, se ce l'avete. Mettete le verdure in padella con l'olio a freddo, poi accendete il fuoco bassissimo e quando inizierà a scaldare, le verdure cominceranno a sfrigolare e sprigioneranno il loro profumo. Dovete fermarvi, perché altrimenti le verdure tenderanno a bruciare e diventeranno amare. Per la preparazione di questo piatto, io utilizzo i calamari, ma è buonissimo anche con i totani, che sono un po' meno costosi e richiedono una cottura un po' più lunga. Per la pulizia dei calamari, vi rimando al video che vedete in sovraimpressione, dove è tutto spiegato passo passo. Vi ricordo soltanto di tagliare il corpo ad anelli e le codine a metà o in 3-4 pezzi, a secondo della grandezza del calamaro. Sapete che io sono un'appassionata di pesce fresco, ma proprio in questo caso è possibile anche utilizzare i calamari congelati, già tagliati a rondelle. Una volta tagliati i calamari, non dovete far altro che aggiungerli al soffritto, al quale avrete aggiunto anche una parte di prezzemolo, sempre a fuoco bassissimo, altrimenti si brucia. Rosolate i calamari, in questo caso alzate leggermente il fuoco, e quando avranno cominciato a cambiare colore, diventando da traslucidi leggermente bianco opaco, aggiungete il vino bianco, ne basta pochissimo, 30 ml, un goccino è soltanto per dare un'aroma. Aggiungete anche un po' di sale, pepe non è necessario perché abbiamo messo il peperoncino, ricordate con tutti i semi se volete una zuppa molto piccante, senza se la volete un pochino più leggera, e sappiate che anche lo zenzero dà il piccante. Mentre i calamari rosolano, spezzate i pomodori pelati a mano, potete utilizzare anche il pomodoro fresco in stagione, però con il pelato questa zuppa viene più robusta, e aggiungiamo il resto del prezzemolo. Non rimane che coprire e cuocere la zuppa di calamari per 20 minuti. Se preferite una cottura più lunga, dovete arrivare a oltre un'ora, perché il calamaro, come sapete, o cotture molto brevi o cotture molto lunghe. Servite la zuppa di calamari nei piatti individuali, spolverizzate con il prezzemolo e accompagnatela con il riso fritto. La ricetta completa con quella del riso sul sito siciliani creativi in cucina. E buon appetito a tutti. Ciao!